la spada è pronta e affilata il controller è caldo e fumante cosa manca la siga imbecille o via ragazzacci andiamo ragazzacci di the web un salutone da un bacio e benvenuti su extinction era tanto che aspettavo questo gioco guardate c'ho i brividi a poter iniziare quindi pochi discorsi e di molti fatti l'unica cosa prima di iniziare che vi voglio dire cosa importante in descrizione troverete dei link a dei siti dove poter andare ad acquistare la key del gioco a sconto risparmiando un buon 20 euro che non fa male acquistando da questi siti ovviamente alcuni centesimi di euro andranno a finire sul mio account di questi siti quindi se avete piacere da acquistare il gioco vi consiglio di passare da questi siti con modo da poter risparmiare qualche soldino e se lo volete fare tramite il link che trovate in descrizione grazie in anticipo perché alcuni centesimi centesimi parliamoci chiaro di euro finiranno sul mio conto quindi detto ciò iniziamo subito con la campagna capitolo 1 l'invasione dei raveni ha inghiottito il mondo solo il regno di dormo resiste ancora avil e xandra arrivano a dormo in cerca di re yorov con la speranza di guadagnare la sua fiducia capitolo 1 il nemico alle porte obiettivo premaro salva 15 civili ok c'era un sistema a medaglie bene interessante le bambini ci dicevano che nel mondo un tempo c'erano gli eroi favole portare speranza in un mondo che l'aveva perso ma che se ne a memoria l'umanità sempre è stata in guerra con se stessa rimasta orfano come tanti sono sopravvissuta grazie alla mia spalla nessuna delle due tuttavia mi ha risparmiato non l'ho fatta a tempo il porto di dettente sarebbe stata la mia condanna a morte se non avessi trovato un amico evil mi proteggeva io mantenevo sano di mente insieme avevo cambiato il corso della storia salve signor orco è un po grossotto lei ok sei arrivata da una succede si ho quasi raggiunto il villaggio hai ragione questo posto non c'è braccia dell'invasione ti sei messo in contatto no diciamo che la gente del posto non mi ha accorto con le braccia aperte e ovviamente sono sicura che avrei conquistarli con il tuo fascino sospira scherzavo più o meno secondo me ad ogni modo ti preferiamo agli sciacalli che stanno per prendere assalto tablis metti con questa che mi manca la presenza quanto tempo prima che arrivano i sciacalli non molto se non farei fretta gli evitanti del villaggio saranno massacrati ho teletrasportato i cristalli per la fuga il campo di battaglia devi usare delle pietre uniche che ti ho dato per attirarli ok quindi qualcuno mi aiuti ok cominciamo subito a menare le mani bel lavoro ok quindi devo dire atteni premuto per salvare ok perfetto l'unica sentinela su qui per preparare il tuo popolo alla guerra eh io non so nulla di come si combattano i mostri puoi fare qualcosa per la tua gente se vi ammirà dimmi cosa devo fare e lo farò prendi questa gemma assicurati personalmente che il tuo re la riceva e quando l'avrà rivolgiti la pietra per pronunciare il mio nome ok allora quindi diciamo che lo scopo di questa missione è salvare vieni qua te vieni fatti picchiare male ok questo è andato salviamo sta gente poi ce n'è dell'altro qui che devono essere aiutati tantissimo perché se no è un casino oh oh allora te vedi di stiantare salviamo sta gente qui e allora te risparono al diritto ok qui c'è gente d'aiuto cosa vuoi lascia fare il villagero non rompe l'anima te sono arrampicate sui tetti per scappare dalla mostra purtroppo io non sono un granché come scalatore andando sul tetto dell'anima posso arrampicarmi a parte raggiungere in cima fermi app e saltare ok oh weee voi voi non dovete rompere l'anima così dovete andare via e morire male perfetto e anche questi sono fatti qui c'è ancora gente di nuovo un civile è stato ucciso eh ho capito giovani e io che vi devo fa e anche questi sono andati devo andare là sopra ok Detti si è arrampicato qui e va bene perfetto ok ho visto degli zoo sei ancora vivo e vabbè non è che ci siano tanti problemi qua non è sufficiente ho mandato la pedra con i tanti a lei dovremmo se nella sua regale vabbè ok perfetto allora la prima missione l'abbiamo completata abbiamo preso 1030 sp abbiamo un potenziamento disponibile andiamola a vedere e possiamo potenziare la salute vabbè un po' di salute in più non fa mai male la prima missione è stata abbastanza semplice ovviamente è tutta una parte di tutorial dobbiamo nuova abilità sbloccata altezza balzo ok quindi nella prossima missione dobbiamo giustiziare un raveni vediamo un po' di cosa si tratta credo che sia uno di quelli grossi nel frattempo ci sono anche degli abitanti del villaggio da salvare e dei sciacalli questi dovrebbero essere da risfruggere c'è dell'ignoranza pesante in questo gioco ma dell'ignoranza pesante veramente sì allora per favore grazie voi potete andare a casa e levarvi dalle scatole qui c'è altra gente te 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 dove vai dove sorti di lì devo proteggere civili a tutti maledetto vigliacco sortimi di uno avanti ok e questo è andato allora io al momento sto diciamo continuando a salvare i i civili perché a quanto pare sembra che salvando i civili acquisto sp e c'è la possibilità di di sbloccare nuove cose tipo prima c'era un mercante un qualcosa del genere devo dire che i comandi rispondono molto bene e quindi ah qua abbiamo sopra un po' di roba sì ok qua su voi state a casa perfetto oddio mio cos'è successo questo è grosso e allora per favore cortesemente eh alle spalle grazie vuoi altri te non puoi rompere l'anima mi devi andare bravissimo te vai sortimi di hostie e qui abbiamo il primo pezzo grosso magari nel frattempo già che sono qui vediamo di salvare questa gente perché bene che sì ok allora te allora cosa fai cosa stai facendo ok allora ci sei salve buonasera vediamo un po' di salvare tutti i civili del caso questa pure è andato allora salve signor ciccio pasticcio non mi ricordo come funziona ti hai venuto ad attacco rumico puntando un'arma lt per mirare mi lascia per colpire ok vai ok gli ho spaccato ottimo lavoro ok allora intanto per cominciare vediamo un po' di levargli una gamba e vai giù ora dargli il colpo di grazia si 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 però prima eeeh madonna cane fanno male sti osi fanno molto male e te tanto per cominciare via un braccio perché non è che ci puoi cosa fai stai fermo fatti picchiare olè bravissimo ora salve ah li si rigenera orca miseria devo essere veloce perché l'attenti si rigenera il maledetto il maledetto il maledetto via la gamba vai giù per favore e non rompe le scatole poi diamo un po' di arrampicarsi su per la collottola eeeh così vai eccellente bel lavoro boccia d'acqua in mezzo al mare sono in troppi dobbiamo cercare il fine possibile o ci anneteranno se la sua bravura si rigenera non potrà che fidarsi di te e mentre aspettiamo che quello sciocco del re si faccia coraggio i rave schierano le loro truppe in realtà è proprio così c'è un'altra orda in avvicinamento ed è meglio equipaggiata aia il prossimo villaggio non sarà fortunato quanto l'ultimo eh immagino vediamo un po' risultato vittoria giustizia ok 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 perfetto abbiamo 1300 sp e direi di potenziare portali rapidi altezza del salto prendiamo anche questa abilità ovviamente credo che ripetendo le missioni si ha la possibilità di acquistare più PA e quindi aumentare quella che è la nostra le nostre abilità e qui direi che per oggi ci possiamo fermare ragazzacci vorrei cercare di vorrei cercare in questa serie di fare video eh un po' più concentrati però carichi di contenuti mh perché a quanto pare queste missioni sono molto adrenaliniche e a me mi sta appigliando una cifra ragazzi io cioè me lo mangerei tutto di cima a fondo sto gioco sappiatelo la grafica è stupenda i controlli sono rispondono molto bene l'unica pecca forse è la telecamera che ogni tanto si bagga ma quello ci si può sorvolare e c'è dell'ignoranza incredibile quindi invito tutti quanti a lasciare un like un commento e a condividere questo video su tutti quanti i vostri social di cui tra l'altro trovate i miei in descrizione se non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale ragazzacci danno a bacio un saluto e un abbraccio e alla prossima gente ciao ciao